La grande conclusione non potrebbe essere più bella di quella che Gianluca ci dice un grazie a tutti voi per essere venuti, buona notte, buona domenica, buona estate e con questa canzone dedicata agli ore e aprile noi vi salutiamo da Enzo Calabrese, grazie mille per essere qui e con questo brano che Gianluca Capozzi e il suo gruppo vi saluta, arrivederci! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!